Pestum Hotel Paestos Anche per noi e per tutti i presenti uno show cooking creando un piatto con i prodotti cilentani Innanzitutto è un piacere sempre collaborare con te e con tutte le persone che stanno organizzando questo evento L'evento oltre alla presentazione del mio primo libro è un vero e proprio scambio culturale Dove ci sarà anche qualche esponente che si discuterà per la dieta mediterranea Che il cilento è molto conosciuto per questa cosa perché anche nel cilento ci sono ultracentenari Quindi molta longevità grazie all'alimentazione e quindi mi fa piacere e sono fiero di rappresentare anche un po' la parte gastronomica del cilento Quindi veramente una bella cosa, una bella iniziativa e ci saranno anche se non sbaglio il presidente del parco nazionale del cilento E vari comuni con i propri piatti a rappresentare il cilento Quindi veramente una cosa molto molto bella e invito tutti a passare sabato 14 dicembre alle 17 a Laurito E ringrazio anche il sindaco di Laurito e tutta la comunità per avermi ospitato Benissimo, ricordiamo che l'evento ricordo a tutti è organizzato dall'associazione Cilento Terra Solidale Di cui io faccio parte, ero presidente, adesso è l'amico Antonio Comito, il presidente Carlo Franco Conoscerai l'evento, Franco appunto innanzitutto è ingentrato sulla presentazione del tuo libro Ne abbiamo parlato tante volte, anche se è in preparazione il secondo libro Il secondo libro che uscirà a marzo e quindi avremo anche l'occasione poi per rivederci per il secondo libro Che è un libro a differenza del primo un po' più tecnico, un po' più diciamo strutturato per i professionisti Quindi è fatto veramente... Il secondo Il secondo Mentre il cuore rimane in mente Il cuore rimane in mente, un libro un po' più diciamo alla portata di tutti E dico una cosa in anteprima, per sabato 14 ci sarà un prezzo particolare per il libro C'è un po', sì sì ci sarà una scontistica sul libro per gli amici che ci verranno a trovare C'è un po' più ecco? Grazie a tutti